Francesco De Rose quella di domani contro l'Albino Leffe è la classica diciamo così partita trappola nel senso che sono ultimi in classifica però una squadra che vale ben di più della posizione che occupa sì sì è una squadra secondo me un organico importante che si trova lì per caso e sicuramente anche per dei limiti che hanno in questo campionato hanno avuto noi non dobbiamo guardare assolutamente la classifica perché non è veritiera e dobbiamo andare lì e fare la nostra partita umili cercando di recuperare i punti persi di sabato perché solo così possiamo raggiungere degli obiettivi importanti ed è quello che vogliamo sei nuovi acquisti nel mercato di gennaio la sensazione è quella di una squadra di un organico per meglio dire più completo con più alternative sei d'accordo si si è mossa bene la società ha fatto gli acquisti di importanti di valore che sicuramente daranno una boccata di di entusiasmo che ne avevamo bisogno in questo periodo e dispiace per le persone che sono andate via perché sono tutti ottimi giocatori però non avendo trovato spazio è giusto che cambiano aria e niente adesso aspettiamo diciamo aspettiamo e ci aspettiamo soprattutto di che ci diano tanto i giocatori nuovi che insieme a noi ci portino diciamo nella posizione adatta a sud tiro è diventato un sud tiro lo forza un po la mano con De Rose più altri dieci giocatori perché insomma è stato un crescendo il tuo di prestazioni davvero entusiasmante e si è diventato pressoché indispensabile all'interno dello scacchiere di mister zanetti sì sono contento di questo e vi ringrazio però io ringrazio sempre i miei compagni perché sono loro diciamo a darmi la forza e l'entusiasmo e questa è una piazza diciamo la piazza ideale per 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 star bene per far bene e insieme a loro voglio raggiungere obiettivi importanti perché possiamo farlo e abbiamo i giocatori giusti e sono sicuro che questo finale di stagione ci regalerà delle grosse soddisfazioni 15 partita al termine del campionato della regular season per essere ancora più precisi qual è l'obiettivo che avete in mente però ti parlo dell'obiettivo che abbiamo in mente noi non di quello che ho io giustamente quello che abbiamo noi è di pensare partita per partita e di fare più punti possibili e sicuramente di arrivare ai playoff e piazzandoci però ovviamente in una posizione ideale per per metterci nelle condizioni di di far bene poi appena si comincia non sarà facile perché affronteremo squadre importanti e squadre ma penso che le squadre più difficili siano quelle di diciamo di bassa classifica però dobbiamo mettercela tutta perché diciamo lo merita la società ce lo meritiamo noi per le dedizioni che abbiamo sempre al campo gli allenamenti la professionalità è veramente in questi anni non mi era mai capitato di trovare dei ragazzi così bravi e professionisti quindi è giusto che ci togliamo delle soddisfazioni se quello che stiamo dando fino ad ora non è bastato dobbiamo come si dice dare il 110 per cento perché dobbiamo dobbiamo forzare questa cosa perché è giusto che ci andiamo a giocare qualcosa di importante